Ce l'ha fatta di nuovo, Massimo Bottura torna sotto i riflettori internazionali con la sua osteria francescana di Modena, eletta miglior ristorante al mondo nella classifica dei World's 50 Best Restaurants 2018. A Bilbao, in Spagna, l'incoronazione dello chef emiliano che aveva già vinto il titolo nel 2016 e ha sbaragliato i ristoratori più trendy e innovativi del mondo. Al secondo posto il Cellar de Can Roca di Girona, in Catalogna, e al terzo il Miesur di Mentone, in Francia. Solo quarto posto per il triunfatore dello scorso anno, l'Eleven Madison Park di New York. Dopo aver festeggiato e ringraziato il suo staff, emozionato, sul palco Bottura ha spiegato il suo concetto di cucina del 2018. «Userò questa vitrina per mostrare al mondo che gli chef nel 2018 sono molto di più che la somma delle loro ricette. Possiamo essere una voce forte di cambiamento se restiamo uniti». E ha aggiunto «Questa è una comunità, come ho detto, una comunità di persone. Stiamo davvero creando una rivoluzione nel mondo del cibo». La sua osteria francescana riconquista così lo scettro, un premio prestigioso assegnato da oltre mille esperti, che però non fa dimenticare al suo creatore la tradizione e le sue origini. «È il ristorante migliore e ognuno di voi che ci ha mangiato, e io ne ho visti tanti, ha detto riferendosi ai giurati del premio, può dire che è il migliore. Perché il team è in gamba, ora siamo più maturi, ci siamo voluti, ma allo stesso tempo siamo rimasti uguali e noi stessi, tutti insieme».